All'Informa Giovani Multitasking del Comune di Bologna puoi trovare servizi e opportunità per la tua formazione e il tuo orientamento professionale, ma anche opportunità di incontro e partecipazione alla vita della città. Accanto a Tutori Esperti avrai la possibilità di mettere in pratica le conoscenze del tuo percorso di studi nella redazione del portale Flash Giovani e di sperimentarti nelle attività di videomaking per raccontare i progetti ed eventi dove i giovani sono protagonisti. Ciao, sono Mianu. Nel 2015 ho svolto un tirocinio post laurea all'Informa Giovani del Comune di Bologna. Grazie a questa esperienza sono entrata in contatto con le associazioni del territorio e ho avuto così l'opportunità di partecipare a progetti di coprogettazione tra l'Informa Giovani e altre associazioni, in particolare pure l'organizzazione e la comunicazione del ciclo di incontri gratuito Talent in Gioco. Attualmente collaboro anche a MACBO, che è Multitasking Atelier Creativo Bologna. Sarà uno spazio, il sito in Via del Porto, che appena pronto sarà avviato per fare attività culturali, creative e artistiche rivolte ai giovani. Mi chiamo Marcello, io ho lavorato nella redazione di Flash Video come volontario in servizio civile. Ho acquisito un sacco di competenze che mi hanno poi permesso di mettermi in gioco come libero professionista al termine di questo percorso di un anno. Mi chiamo Marcello, io ho lavorato nella redazione di